Buongiorno, io sono Oksana e in questa lezione impariamo a chiedere informazioni quando andiamo a visitare un luogo oppure siamo in gita. Is Oxford Street far? È lontana Oxford Street. It's three blocks away. È a tre isolati da qui. Could you help me please? I'm looking for this address. Cerco questo indirizzo. Puoi aiutarmi per favore? Can you show me on the map where I am? Puoi mostrarmi sulla pianta dove mi trovo? How long does it take to get there on foot? Quanto tempo ci vuole a piedi? Which road do I take for Brighton? Puoi indicarmi la strada per Brighton? Is this the right road for the motorway? È giusta la direzione per l'autostrada? No, you're on the wrong road. You'll have to turn back. No, ha sbagliato. Deve tornare indietro. How far away is the airport? Quanto dista l'aeroporto? It's twenty miles north of the city. È a venti miglia a nord del centro urbano. How do you get to the city center? Come si raggiunge il centro città? Go on to the traffic lights, then ask again. Prosegue fino al semaforo, poi chieda di nuovo. Take the subway. Prenda il sottopassaggio. Are cars allowed into the old town? Le macchine possono entrare nel centro storico? No, it's a pedestrian precinct. No, è zona pedonale. You can't turn left. Non può svoltare a sinistra. You have to give way. Deve dare la precedenza. Go straight on, as far as the crossroads. Then turn right. Vada dritto fino all'incrocio, poi svolti a destra. Where is the tourist office? Dava all'ufficio turistico. What is there of interest to visit? Che cosa c'è di interessante da visitare? Have you got any brochures, maps, guides? Ha dei dépli, una cartina, una guida? Is there a guided tour? C'è una visita guidata? When does the next guided tour visit start? A che ora inizia la prossima visita guidata, il prossimo giro turistico? What is this building? Che cos'è questo edificio? What period is it from? A che epoca risale? Do you have information on local sites? Avete delle informazioni su siti da visitare in zona? I have only one day. I have only one day. Ho solo un giorno. I'd like to see... Vorrei vedere... I'd like to hire a local guide. Vorrei ingaggiare una guida del posto. Ho solo un podcast. It's barri ing October 185, ely che obviare un passaggio su siti di mezzo. Ho solo ungu'nomorphне. Ho solo un passaggio su siti.